Nella mattinata di ieri la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, su disposizione della locale Procura della Repubblica, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente fino alla concorrenza di oltre 800.000 euro nei confronti del titolare di una società di battipaglia responsabile di svariate fattispecie di reato in materia fiscale. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Salerno sulla base delle risultanze investigative emerse dallo sviluppo di un'informativa dell'Agenzia delle Entrate, con cui veniva segnalata l'omessa dichiarazione da parte dell'azienda operante nel settore degli imballaggi di IVA, debito per oltre 100.000 euro relativa all'anno d'imposta 2016. Questa però era solo una parte del debito complessivo nei confronti del fisco. Nel corso della successiva attività di verifica, le fiamme gialle della tenenza di battipaglia hanno infatti scoperto che l'imprenditore, negli anni dal 2016 al 2018, aveva omesso di dichiarare quasi un milione di euro di ricavi, sottraendo così a tassazione redditi di pari importo. Per finire sempre la società in questione aveva ulteriormente abbattuto i debiti con l'erario, pur esibendo una serie di crediti di imposta, in realtà non spettanti, per un ammontare di oltre 200.000 euro. Accertata la complessiva evasione fiscale proprio per garantire il pagamento delle somme dovute, è stato sottoposto a un sequestro l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare dell'indagato, composto da una villa, un appartamento, tre terreni, un autoveicolo, quote societarie e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 435.000 euro. L'amministratore della società dovrà ora rispondere dell'accusa di avere, in alcuni anni, del tutto omesso, ovvero di aver presentato delle dichiarazioni fiscali fraudolente, nonché dell'indebita compensazione di crediti di imposta, reati per cui rischia la pena della reclusione fino a sei anni.